Il giorno del Signore è vicino e diviene salvoci. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi, che pone il tuo spirito. Da partito, secondo partito, in quel tempo, Gesù dice ai suoi discepoli, che cosa verità che un uomo, a cento piccoli, e una di loro cittadice, non lascerà il romano a nove e i suoi mostri, e andrà a cercare quella che c'è in maniera. In verità, io lo dico, se riesce a rinnovarla, si rinnovarà la scuola, che era rinnovare un nome, che non si era rinnovato in vita. Così è volontà del Padre del Signore di Gesù, che neanche uno di questi piccoli si perde. Padre del Signore di Gesù, che neanche uno di questi piccoli si perde. Grazie. Sal mug